Alcol e sport, per solito, non costituiscono una coppia perfetta, a meno che il matrimonio non venga celebrato all'insegna della moderazione e dell'assiduità, moderazione nel consumo di alcol e assiduità nella pratica sportiva. Partendo da questo semplice assioma, le nozze si celebreranno in occasione di El Baleatico. Sabato 18, lo YAC Club Portoferraio farà la prima uscita ufficiale con una passeggiata a vela, dedicata al prezioso vino ilbano. Il giorno seguente, in concomitanza con El Baleatico, si svolgerà una gara ciclistica non competitiva, che vedrà in astre di partenza circa 200 concorrenti. Un buon numero, che però poteva essere ancora più alto se non fosse per la concomitanza con un altro importante evento ciclistico che si terrà sempre in Toscana. Comunque, si tratta di un eccellente inizio e, se il buongiorno si vede dal mattino, il matrimonio trasporto e aleatico è di quelli destinati a durare nel tempo. Quanti concorrenti si prevedono per il 19 aprile? Come prima edizione noi contiamo di portare circa 200 persone. Purtroppo abbiamo una concomitanza con un'altra manifestazione grossa in Toscana che ci vede penalizzati, però ci crediamo molto in questa manifestazione, in questa sinergia, in questo gemellaggio con l'Aleatico dell'Elba e quindi ci servirà come prova zero per poi nel futuro farla crescere nei numeri che sicuramente saranno veramente importanti nei prossimi anni. Yachting Club appena inaugurato e già arriva il primo evento. Lo Yacht Club appena inaugurato e partiamo, abbiamo fatto un'inaugurazione a terra e ora è il momento di fare un'inaugurazione sull'acqua. E' quale miglior momento dell'iniziativa di Elba Aleatico, comunque una bellissima iniziativa che porta l'Isola d'Elba, una delle eccellenze dell'Isola d'Elba sul territorio nazionale e internazionale e quindi per ringraziare coloro che hanno ideato questo bellissimo evento ci uniamo con una veleggiata Aleatic Cup, quindi in onore dell'Elba Aleatico, creata in collaborazione con la Lega Navale di Portoferraio che avrà inizio il 18 di aprile.